Allora, nome e cognome? Carmelo Campanella. La data di nascita? 412.1931. Sì. Lei può registrare e può darle... Eccomè. Ho poi una gente acquistata a questo canto. Quando ho avuto un amoroso conto e non mi sento di spiegare tanto, come è mortificato l'uomo stesso affronto. Ma ad aiutare voi il Spirito Santo a rire queste canzoni su Brambundo. Brambundo pigliore l'eterno pace. Siano arrivate alle 103 anni. Mamma, le peccature non sono sagge. Sono soddisfare le sue danni. Ci sono molti cori, spietati e allargri che cercano di ricordare le persone. Mi partono le ragioni di Santa Marcia. E poi bella sono da questi poveri ranni. Ranni fu l'amore che il nostro Dio portava a tutta la sua nobile compagnia. Tutti i suoi discipoli chiamavo venite tutti alla presenza mia. E conoscendo e poi lo ricenziavo, uno ripiace tre ore se mi ha fatto il terremiento. Un terremiento che viene scomposto, scomposto con il mio figlio di Maria. O che troviamo a fare questo duorto che è tanto a dire lo vero Messia. E hanno le notte, partito per il duorto e gli agenziano per tutta la via. Io avevo visto sracanciato e morto per la gran pena e la malangonia. O che malangonia cacciapanavo, come le cori manzoete e pio, e le rovure se gli adunisciavo votavo la mente per l'eterno Dio. Tutta la morta passione controbavo verso lo Santo Padre resistivo. lo Santo Padre non ci mannavano, ci disse avere pazienza a figlio mio. Ma caro figlio, capate così, questa passione inolorata e forte, ci promendiste e ci registre così che aveva da liberare l'uomo della morte. Ora ciò non c'è scusa per te, disse non c'è colpa per questa malasorte. E se nell'uorto e gli sennai sovravo il sangue a cercare di notte. alla notte lo grangano già ritorni, non ne vi abbienti e non potevi riposare. Cagli cercando che non lo sceglie il Redentore con tutta la sua ciuppa universale. Venite che lo asso alle quattro ore se voi mirate l'alucente arenare. L'alucente arenare tu sei pacionazzo, tu che sei giura ne puoi comandare. Si è vede un morto mentre io il brazzo e ogni ampedito te lo fai passare. Presto non puoi dire che so pazzo solo c'è un cuore che stiamo a rifare. E stanno a San Carnauto gli orandazzo quando Gesù lo fanno attaccare. Attaccandolo lo portarono alla conanna e poi loro gli avrò uscita una colonna. Al riguardo amoroso a Dio quando si affanno credi i temi cristiani che non si sono. Ora si auguri con rongasa di Anna che ci hanno che fa Maria povera donna. Ora una fritta con tanto ragazzo che va cercando il tuo figlio stesso. Maria non aspettava tanto spazio e resa un schiaffo ma che fu un abisso. I due rizzi stanno battendo il passo sulle sette ore da una curacchissima. Gli sono per un uomo manzoete pio che mi parla con il scuso ragionato. fa molti insegni lo parere mio fare ferire e mentre scalarato. Ora ho attorno il figlio di Dio come il rebello l'hanno rastognato. Rastognando lo si messe a cercare e incontrere Pietro le sole palliere. Pietro non mi è stato a spiare non lo conosce sogna un passaggiere. E ora un auguro senti cantare l'oiato e Pietro mutavo le pensiere. signori che mi vede a perdonare che ho bagnato ruote e vorrei rire. A tonne Pietro lontantazione lo vede che mi fa lo tuo peccato. E per la tua mala persuadione io sogno crudelmente fraccellato. Ora ti giuro la mia passione va di sottapongio ripalato. E lato all'unno giuro ci mannavo con un ragione che mi ha detto Dio e per ora che l'altro spiavo che forse è chiesto il rebello mio. E Gesù Cristo si manifestava che sono un vero figliolo di Dio. Ma caro figlio? Ma caro figlio è capato così da condannato Eroda con le giure. Ci vuole la licenza rivelata che è stato un malofattore. Questo peccato mi ha portato che è giuro sempre mai stato giardatore. Tra l'ore? Tra l'ore rinta tanta maestate c'era giù le gane io riai e una colonna le mani attaccate mentre mi scrive a fare sei questa è la colpa per le mie peccate e viene domanda a miseria di me e foro tante le cuore pare scogliate sia mila sia cento sessanta sievi. la regna passava con gli abbi sabbastanti rifragella da Cristo nepotente tutte eravano i corpi tutte quante che ha morto lo chiamano veramente. Ora è quattro di giuro lo diamante e fu un cronato le spine fungiene. Fungiene il gran consiglio appena a fare tutte erano i capi due le mie e lo li faccio martirizzare e Cristo va contro gli ebrei e quina giuro lo fanno commigliare con una cappa rossa a mezzo e con una canna alle mani lo fanno facciare e si affaccia le ciamole delle ebrei e ora è pelato con travaglia e con matta ma Cristo l'ha portata tante torte pelato e l'ha votato le sue carte e le giuro pensiamo alla sorte ci vuole il suo consiente la sua parte presto crucefisse la morte molto presto il Signore indepilato con la cruce in cuore e l'hanno abbautosa se l'universo ebrei fosse accionato con un'annata la morte assoluto e l'avante che lo calvario affascinato quando l'hanno si trovava spugliato tutto il sangue si trovava vestito che aveva vestito tutto frecazzato e trepentato come un formone e diceva attore se trovavo ingiovato tutto correre il gianno non ti addone che ha mostrato la luce tutto il mondo che è scuro si fice Maria che gli ha cianciato e l'uomo figlio quale è stato quale male lo fice e diceva attore si spingiò la cruce e tutto restare contente e felice se vuota Cristo disse una parola la ruce mamma va a ricomandare il nemico amici e nemici avvenuti per l'ugno diranno a Cristo mi hanno inserito l'altro dirò l'uomo e l'uomo e l'uomo e l'uomo non mi ha abbandonato il Santissimo Padre l'uomo vuoi madre Giovanni per figlio e il comodo Giovanni ma madre per madre mamma da certi bisogni si deve con pace non si potono unire tante teste ci restano felici che incrocia la raviesa senza veste e ben tenuto che ci restano amici e l'uomo consumato in veste rimesso si è finita la nascenza la felice l'uomo ma l'uomo è uscito il Santo Padre mi ha detto le cianci che vuole che queste canzoni rego io ecco l'asciuto in zona Provenza l'ha fatto per onore e gloria a Dio e Dio però lo aveva a decidere se compiace e poi tutto l'uomo non si raduce eppure l'anima senza Dio non ha noce che significa l'uomo 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 un po'